Rita Pavone, conosciuta anche come La Zanzara per via dei suoi trascorsi nella città di Torino, è una delle cantanti, attrici e showgirl italiane più famose e apprezzate. La sua musica ha raggiunto il successo in tutto il mondo, tanto che ha inciso in sette lingue diverse. Inoltre, è una delle otto cantanti pop italiane ad essere entrate nella classifica del Regno Unito nel 2003. Tuttavia, la carriera di Rita Pavone è stata interrotta improvvisamente nel momento in cui ha rischiato seriamente di morire a causa di un malore che l'ha colpita. La cantante ha raccontato che alcuni giorni prima aveva avuto dei sintomi, ma li aveva trascurati. Solo quando ha iniziato a provare dei forti dolori al petto ha capito che c'era qualcosa di sbagliato. La situazione si è rivelata più pericolosa di quanto pensasse, e la sua vita è stata messa in grave pericolo. Dopo l'accaduto, Rita Pavone ha dovuto mettere in pausa la sua carriera per recuperare le forze e riposarsi. La situazione ha suscitato il terrore dei suoi fan e ha portato alla luce i rischi che possono essere presenti anche nelle vite dei personaggi famosi. La cantante ha sottolineato l'importanza di non sottovalutare i sintomi e di prestare attenzione alla propria salute, anche quando sembra che tutto stia procedendo bene. Il supporto della sua segretaria Rossella Ricciotti e del coreografo Fabrizio Mainini, che hanno effettuato un massaggio cardiaco in attesa del pronto intervento, è stato cruciale per salvare la sua vita. Voi cosa ne pensate? Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere tutti gli altri video.